Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa qui alla Festa del Cinema, uno straordinario, grandissimo attore e regista, Massimo Vertimuller. Sì, poi c'è sempre, tutti c'è questa necessità, però viva il cinema e viva gli animali. Ecco, questo ricordiamo, tu sei sempre al supporto degli animali, diciamoli, trattiamoli sempre bene. E ho una sorpresa perché, da qualche te la volevo dare, la manina del Saludatore, ecco, per trovare tutti i tuoi fan. Ciao! Competevo l'ora io, eh, te saluto così. Magino! Ciao, grande!